Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vi volevo parlare di un nuovo strumento ecco qua, si chiama King Bolen Y100 e sarebbe uno strumento di diagnostica che mi è stato inviato appunto dalla King Bolen. È uno strumento di diagnostica molto basilare, però è anche ricco di informazioni. Informazioni utili che certo non servono a sostituire il lavoro che può fare il meccanico, però magari ci possono aiutare a capire determinate situazioni. Quando vediamo una spia sul quadro e magari il computer di bordo non è molto dettagliato sulla tipologia di problema, magari noi riusciamo già a capire se la macchina si può muovere, se possiamo resettare noi l'errore, oppure se c'è bisogno per forza dell'intervento del meccanico. Quindi adesso spero di farvi vedere tutto quanto per bene, di farvi vedere ogni meandro di questo oggetto. Inoltre vi volevo far vedere un paio di episodi che mi sono successi questa settimana in cui abbiamo avuto necessità di questo oggetto. Allora vediamo com'è fatto. Ecco qua, questo articolo comunque è molto semplice perché è fatto praticamente con un piccolo display a colori, ha semplicemente i tasti per muoversi nel menu, il tasto per tornare indietro, tasto ok e come potete vedere c'è questo tipo di presa che viene chiamato OBD2 e va collegato direttamente alla presa che troviamo in macchina. Adesso vi faccio vedere come. Allora, nel nostro caso la presa OBD è alloggiata lì sotto, su altre macchine invece potrebbe essere posizionata altrove, ma nel nostro caso invece ce l'abbiamo lì sotto e adesso vi faccio vedere com'è fatta. Ecco qua, questa qui sarebbe la leva che ci permette di aprire il coperno motore e a fianco abbiamo la presa OBD. Adesso la andiamo a collegare e vediamo com'è fatto dentro questo strumento. Ecco qua, appena collegato le voci che ci appaiono sono queste qua. Allora, la prima praticamente andiamo proprio in diagnosi, quindi vi faccio vedere prima quest'altra funzione. Allora, questa qui praticamente cerca il codice errore in base alla marca dell'automobile che avete. Esempio, in questo caso io ho Fiat, quindi premo ok. Qui inseriamo il codice errore con ok ci spostiamo verso destra, con il tasto su e giù inseriamo il codice errore e dopo, una volta che abbiamo inserito il codice errore, premiamo ok e vediamo il codice errore e che cosa corrisponde. Oppure, adesso andiamo indietro, ecco qua, adesso facciamo test di tensione. In questo caso la macchina è spenta, come possiamo vedere il voltaggio è a 13, non stava a circa 14,5, stato buono. Adesso andiamo indietro e vi faccio vedere. Opzione. Allora, qui possiamo scegliere la lingua del dispositivo. Vabbè, io ho scelto italiano. Poi unità, vi dice l'unità di misura, metrico o inglese e io ho scelto metrico. Poi registrazione dati, se praticamente vi serve fare una registrazione dei parametri della macchina per poi rileggerli successivamente. E poi il test di autoverifica, questo qui è un test, se avete un problema, diciamo, su questo dispositivo potete fare il test del display per vedere se è funzionante. Quindi lui che cosa fa? Adesso, ecco, vi fa vedere il test. Ecco qua, lui ha verificato che funziona. Il test della tastiera, ecco, ti dice premi su, premi giù, premi ok, premi esc, tutto ok. Comunque, diciamo, sembra anche fatto bene con questi piccoli accorgimenti. E poi questo qui, vabbè, sono il numero di serie di questo articolo con le versioni di aggiornamento, l'ultima volta che è stato aggiornato, eccetera, eccetera. Allora, adesso andiamo in diagnostica. Lui adesso si sta cercando di collegare. Allora, appena collegato, diciamo, in diagnostica, ecco, vi volevo far vedere, esempio, se vogliamo leggere i codici errore, vi permette di vedere i codici memorizzati in sospeso e permanenti. Si possono cancellare i codici. A tal proposito, vi faccio vedere come abbiamo cancellato l'errore sulla macchina di un mio amico, che ha sempre una Fiat Tipo come la mia, solamente che è la 1.4 T-Jet 320 CV. Eccoci qua, siamo con una Tipo 1.4 T-Jet con impianto GPL da settare, montato successivamente. A parte l'errore delle luci della retromarcia, abbiamo start e stop non disponibile perché abbiamo una varia motore, ed ecco la scritta far controllare motore. A questo punto colleghiamo la nostra diagnostica e cerchiamo di trovare l'errore per poi cancellarlo. Quindi premiamo ok su diagnostico, adesso aspettiamo che rileva l'errore, leggi i codici, codici memorizzati, ed ecco che l'errore system to lean su idle bank 1, ovvero il sistema è troppo magro sulla bancata 1. Questo errore deriva dal non corretto settaggio dell'impianto e dato che è stato già preso l'appuntamento dal meccanico per risolverlo, proviamo a cancellarlo. La diagnosi ci chiede, desiderate cancellare i codici d'errore? Premiamo ok, attendere prego, le condizioni non sono soddisfatte, i DTC non sono stati cancellati, quindi secondo lui gli errori non sono stati resettati correttamente. Allora, nonostante che le condizioni non sono state soddisfatte, comunque l'errore è stato cancellato. E poi possiamo vedere i dati in tempo reale. Ecco qua, questi sono i dati in tempo reale. Esempio, DTC praticamente è l'acronimo di codice guasto diagnostico, c'è questo 1000STD che sarebbe spia di malfunzionamento che è spenta, poi abbiamo l'OAD, questo qui sarebbe la percentuale di carico motore, poi ECT sul manuale diciamo della King Bowlen dice che sarebbe la temperatura del liquido di raffreddamento del motore. Esempio, IMAP sarebbe la pressione assoluta nel collettore di aspirazione, Intake Manifold Absolute Pressure. Poi ci stanno, ecco, questi qua sono i giri del motore. E con questa storia dei giri del motore, vi volevo far vedere a tal proposito che l'altro giorno mi sono ritrovato praticamente che la macchina era in rigenerazione e allora vi volevo mostrare come i giri del motore aumentano quando la macchina è in rigenerazione. Questo dato WSS c'è scritto sensore di velocità del veicolo, quindi quando ci muoviamo è logico che i chilometri orari aumentano. Poi, esempio, IAT sarebbe la temperatura dell'aria in aspirazione, MAF sarebbe il flusso d'aria di massa che legge il debimetro e così via. Poi ce ne stanno altri. E comunque ragazzi vi dico che qui parametri ce ne stanno veramente veramente tanti e vi potete sbizzarrire in base a quello che dovete fare. Poi se andate sempre sul sito della King Bollen ci sta una leggenda di tutti questi codici qua e quindi non vi potete sbagliare. Allora, se ritorniamo sul menu di diagnostica, oltre i dati in tempo reale abbiamo questa funzione qua che serve per bloccare un preciso fotogramma se abbiamo un errore in memoria e poi abbiamo, esempio, informazioni sul veicolo. In questo caso vi fa vedere il numero di telaio. Io l'ho scurato perché è un dato diciamo abbastanza sensibile. Allora, eccoci qua. Insomma, avete visto che questo strumento di diagnosi ha veramente tante informazioni. Alcune, anche per me, forse sono anche troppo tecniche. Quindi magari se ne dovesse aver bisogno, come vi dicevo, basta che voi andate sul sito della King Bollen e ci sta tutta la leggenda di ogni singola riga che vi spiega nel dettaglio quegli acronimi che cosa significano. Però diciamo che per un utilizzo di tutti i giorni è più che sufficiente. Anche perché se avete un problema, che ne so, al sensore di pressione del turbo o il sensore di pressione dell'olio motore e vi esce una spia e magari il computer non ve la sa indicare, magari questo oggetto qui, questo oggettino qua magari ve lo sa dire. E già vi fate un'idea di quello che potrebbe essere. Quindi per tutte quelle persone che hanno voglia magari di acquistare questo oggetto, comunque vi lascio il link in descrizione perché non costa molto. Infine vi volevo dire, questa diagnosi non fa il reset dei taglianti. Quindi diciamo è più che altro uno strumento di lettura ed è uno strumento per cancellare gli errori, qualora ci siano degli errori. Quindi se questo video vi è piaciuto, mi raccomando lasciatemi sempre un like e iscrivetevi al canale. Mi raccomando se vi posso essere d'aiuto in qualche modo, se avete bisogno di approfondire l'argomento su queste diagnosi, fatemi sapere. Io sono qua, alla prossima. Ciao ciao!